Carica di ulteriore energia mischiandosi come in uno scontro di correnti in quota con il messaggio proveniente dall'altra parte dell'incrocio Compro oro Oggi il suo messaggio si carica Fino a una settimana fa al posto dell'usuraio c'era un'agenzia di viaggi che si combinava con la salumeria in modo meno elettrico generando un altro tipo di suggestioni Adesso invece i due richiami fanno scintille Vacche, monili e calore, pensè il re Chi l'avrebbe mai detto che anche gli abitanti del suo quartiere sarebbero arrivati a vendersi tesori di famiglia Il re registra la novità mentre entra in negozio sotto lo sguardo annoiato della moglie del salumiere seduta alla cassa Una tizia è già servita, dopo toccherà a lui Una volta c'era la coda fin quasi fuori dalla porta Un'altra novità Il flusso dei pensieri viene interrotto da una macchina di grossa cilindrata che inchioda davanti al negozio Dal lato passeggero scende una donna sui 40 Un giacchino di pelle appoggiato sulle spalle Un top reggiseno da palestra Il pizzo delle mutande che sporge dai jeans tenuti bassi sulle anche E in mezzo, tra sopra e sotto La lucida vastità della pancia nuda al nono mese di gravidanza Fende il piazzale a testa alta Il busto lievemente arretrato Il grugno da impunita sotto le lenti a specchio Il passo sicuro nonostante la divaricazione di ginocchia e punte dei piedi Dietro di lei si intravede nel finestrino azzurrato La mascella da terzino dell'uomo al volante Entrando riceve un piccolo sorriso di benvenuto dalla cassiera a cui risponde appena Distinto, il re le fa spazio accanto a lui davanti al banco dei formaggi È imponente Anche grazie alle zeppe Che la sollevano di buoni dieci centimetri sul livello del mare Ma tutto riceve senso e grandezza da quel centro irradiante di vita Su cui la pelle splende al massimo dell'estensione possibile Come l'ultima membrana che tiene in salvo il mondo dalla più stupefacente delle bombe Racchiusa lì dentro e ormai prossima a scoppiare Il re vede riflessa quella protuberanza minacciosa nel vetro del banco Un ologramma sospeso tra i salumi e la vasca delle mozzarelle Prego, dica Sulla sommità estrema dell'addome sporge, poco più scuro del resto, il fiocco venoso dell'ombelico Mettergli paura, la donna vuole davvero questo? No, non solo pensere La donna vuole che chiunque la incontri capisca bene di cosa è stata capace Io ho fatto questo Io l'ho saputo fare Come vedete ci sono riuscita Una volta le donne incinte indossavano i vestiti premaman Occultavano la loro metamorfosi Tentavano di presentarla nel modo più rassicurante Una seccatura a basso impatto ambientale Signore, dica pure Il re ricorda la foto della mamma La regina madre in posa davanti ai cancelli della fabbrica Circondata dalle colleghe ancora in camice da operaie Che la festeggiano l'ultimo giorno prima del congedo per maternità Un po' curva nelle spalle, le braccia lungo i fianchi Un'ampia tunica grigia con una greca sul petto al posto dei bottoni La tenda dentro cui giacciono uniti lui e lei Il feto innamorato e la placenta All'epoca fare figli era fisiologico Anche figli regali Non era la vita Era una cosa che accadeva durante la vita Mentre si era alle prese con i suoi mille rivoli Accadeva e basta Non c'era ragione di vantarsene La natura approfittava degli esseri umani più distratti Di fatto la maggior parte Per produrre altri esseri umani Di solito i bambini trasmettevano allegria E ricevevano amore Ma sempre mentre i mille rivoli Continuavano a scorrere sopra e sotto di loro Spesso costringendo gli adulti A dimenticarli sullo sfondo Oggi invece fare figli è un evento Talvolta prova di coraggio Talvolta gesto disperato Talvolta coronamento Ultimo obiettivo massimale Del grande slam dell'esistenza Com'è probabile che sia per la donna Col giacchino Comunque un evento straordinario Guardate qua Ecco di cosa sono capace Ammirate tutti il mio gioiello Ovvio che non si copre Anzi spinge bene i pugni sui fianchi Perché la pancia guadagni tutta la scena E minacci meglio i presenti Il re non osa spostare neanche di poco lo sguardo Osserva nel vetro Quell'enorme glande rigonfio La stessa forma spropositata e vincente Dei cazzi sui muri delle scuole L'ennesima donna priapo Pronta a devastare i treni Le pizzerie, le sale d'aspetto Con un altro bambino nazista Signore, signore, tocca a lei Il re pensa al suo sperma Al ventre sassoso della regina Una stirpe così nobile Privata della discendenza Per fortuna Ma sa cosa prova la regina Ne hanno parlato in terapia Il tono controllato Le unghie conficcate nei braccioli Dovrebbe rapire Salutina Ecco, vabbè, qui voi non sapete che è Salutina Aspettare fuori dalla piscina Catturarla e regalarla alla consorte Salutina, la bambina che saluta Per un attimo la vede seduta a tavola Accanto loro con un bel nastro in testa Il fatto è che Salutina non esiste È già un regalo che la regina fa a se stessa Signore, sì, dice finalmente il re solevando lo sguardo Lo stanno osservando tutti Anche la gestante si è voltata verso di lui e sta aspettando La tizia che stavano osservendo è alla cassa E l'unica a guardarlo con evidente preoccupazione Sarà lei infatti ad accompagnarlo fin sotto il portone di casa Assicurandosi che abbia le chiavi Tocca a lei, dice il salumiere Tocca a lui Il re li guarda uno a uno La cassiera La tizia apprensiva L'impunita con gli occhiali a specchio Il salumiere esporto verso di lui con le nocche sul tagliere Quattro pedoni La luce dei neon schizza via dalla pancia In fasci di stelle sottili e accecanti Che cambiano direzione a ogni minimo movimento della donna Come i riflettori sparati nel cielo notturno Per attirare la gente in discoteca È entrato qui dentro per una ragione precisa Bufala sempre calda, pensa Bufala sempre calda È venuto per comprare qualcosa? Già Ma cosa? Ecco Grazie Questo è l'antipatico del re Guardate, se ci sono altri Voglio chiedere qualcosa Altrimenti credo che questa lettura Questa sospensione sia Così bella Che è Va bene Sì, veramente Anche perché si capisce come Tanto altro Molto particolareggiata la descrizione Diciamo che ho avuto una visione onirica Mi permette di dare questa battuta? Sì, sono pagine che non possono essere raccontate malette Quindi è molto anche difficile Si fa meglio scriverla Va bene, grazie Grazie a voi Se qualcuno vuole il libro Feltrinelli li ha procurati E possiamo rimanere qua ancora un po' Se qualcuno vuole anche una dedica Da parte di Mauro Kovacic Siamo qua Ho pensato che fosse Dato una pezzetta Così si capiscono Anche